La regione siciliana ha avviato il ripristino urgente degli installatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani dismessi da oltre dieci anni. Entro giugno saranno operativi i moduli temporanei che forniranno fino a 600 litri d'acqua al secondo. L'intervento, sostenuto da una cabina di regia nazionale e 100 milioni di euro di investimenti, mira a fronteggiare l'emergenza idrica aggravata dei cambiamenti climatici.